video brevissimo per spacchettare un pacco che mi è arrivato completamente aperto una di quelle cose che proprio non ti augureresti mai ma devo capire che c'è dentro e come è arrivato bentornati cari lettori come state spero tutto bene io sono luca dj questo è storia dell'altra vita e qui spacchettiamo un pacco che mi è arrivato aperto ma come si fa è totalmente totalmente sfracchiato venite più vicino vediamo un po di rimere la situation il pacco è questo qui me l'hanno mandato gli amici leviatani ma come potete vedere è totalmente aperto si vede pure l'interno quindi lo volevo spacchettare il meno possibile per capire in che condizioni sono i fumetti qui dentro si sono salvati allora prima cosa che mi hanno mandato solo un po un po così un po così vabbè l'hanno distrutto il pacco mannaggia allora ragazzi come prima cosa mi hanno inviato gaijin salamander che è un racconto molto interessante di massimo rosi con i disegni ludovica cere gatti che qualcuno di voi conoscerà perché ha disegnato mi pare sia un samuel che un dragonero non mi vorrei sbagliare però dovrebbe essere così in caso ditemi voi con i colori di renato stevanato gaijin salamander in realtà già esisteva una versione questa qui è una ristampa sono contento che è stato ristampato perché questa qua è un racconto che può leggere tranquillamente anche un un ragazzo un ragazzo di fatti questo qua lo lesse a suo tempo sia anna ma soprattutto soprattutto a marco piacque una cosa che io ancora non leggo voglio voglio porre rimedio a questa cosa qua e sono contento che hanno fatto una seconda versione evidentemente sta andando bene poi poi che cosa mi hanno mandato ragazzi questo è l'ultimo il secondo spin off ma l'ultimo capitolo della saga di the barbarian king ovviamente uno spin off quindi si va a ricollegare alla trama principale ma non ma non è the barbarian king il ciclo principale appunto infatti la storia della sceneggiatura sono di osse luis vidal e disegni di mano le spinose colori i colori di alicia soria e l'editing di lucrezia benvenuti la traduzione massimo rosi ovviamente questo qua è liberamente ispirato alle opere di arward arward scusate e ovviamente si va come ho detto prima a incastonare all'interno dell'universo narrativo di the barbarian king che ha creato massimo rosi ottima cosa perché può essere un buon modo per aspettare il sesto capitolo vabbè lasciamo aperte il sesto scusate il sesto capitolo dell'opera perché in realtà voi dovete sapere appunto che già sono usciti cinque numeri di the barbarian king c'è già uno spin off che è valeria e il secondo spin off è dedicato che è una delle donne principale di re barbaro e questo qua invece è incentrato sul villain sul villain più importante più imponente sul villain principale della saga e fra un po arriverà il sesto se ne volete sapere di più ne ho parlato al teramo comics con con i leviatani però sino scusate stavo pensato un'altra cosa mentre faccio un video proprio allucinato queste sono le cose che si tagliano le cose che si che si tagliano quando uno quando uno va a fare il montaggio io non le taglio perché va tutto quanto live quindi iara molto interessante se vi volete recuperare appunto il la chiacchierata che ho fatto con grotti con massimiliano grotti di the barbarian king che si è occupato dell'editing appunto di tutta quanta la serie andate per recuperare il video c'è tutto quanto è anche secondo me è interessante perché the barbarian king è una storia che fa capire come anche l'ingegno possa portare oltre anche le proprie possibilità agli autori di casa editrice un po più piccolino quindi di prendere un personaggio ormai privo dei diritti e nel rispetto personaggio così importante portarlo portarlo a un altro tipo di di compimento un altro tipo di avventura un altro tipo di di anche di di mood ma sempre nel pieno rispetto del personaggio originario molto molto bello e poi beh poi c'è questa chicca qui questa chicca qui che è paradise lot che volevo assolutamente leggere che ancora in realtà non c'è disponibile ma che grazie ai miei agganci con le vietan lab se posso leggere l'anteprima no sono contento di averlo di averlo fra fra le mani perché è una di quelle di quelle cose che potrebbe rivelarsi veramente un gran una grande lettura la storia tiroi disegni davide caviglia e colori di lorenzo palombo paradise lot interessante molto 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 bello anche come fatto e beh queste cose non hanno tre letture che farò quanto prima tutte e tre sono a 15 euro la qualità è la solita di le vietan lab sono dei brossurati in formato abbastanza grande neanche troppo ma che riesce a tenere per il numero di pagine riesce a tenere un costo un costo tutto sommato abbordabile anche perché ripeto e le pagine sono belle belle pesanti una cosa importante restate collegati perché ci sarà a breve a breve ci sarà un appuntamento con i leviatani proprio per parlare di paradise lot poi vi dirò tutte quante le coordinate perché si farà sia dal vivo che online quindi magari se state là vicino ci potete anche andare ma di questo parleremo parleremo a tempo debito quando tutto quanto sarà sistemato e avremo tutti quanti gli orari precisi ragazzi detto questo e altro dirvi bene o male soltanto questo qui ha subito una brutta botta gli altri alla fine stanno stanno bene sono contento veramente interessante fateci un pensierino su gaijin salamander che è numero unico quindi storia unica iara da leggere così da solo magari recuperatevi dei barbarian king e magari fatelo in digitale quando hanno le offerte questi leviatani labs perché io l'ho recuperati i primi quattro tutti quanti in digitale tutti quanti a 99 centesimi cioè ognuno a 99 centesimi con meno di 4 euro mi sono letto volumi di questo tipo sì in digitale ma una grande bella storia e poi massimo rosi mi ha mandato con grande gentilezza il numero 5 e anche valeria e quindi questo qua me lo leggo molto molto volentieri ma il primo sarà sicuramente paradise lot perché voglio capire dove vanno a parare i leviatani in un noir non so quanto investigativo ma dovrebbe essere interessante noi ci vediamo ragazzi domani per il solito prossimo video ciao belli